Ciccio Colonnese al termine della finale per il terzo posto, comunque vinta sulla Francia, un riscatto dopo la debacle di ieri? Sì, un riscatto giusto perché ieri avevamo perso e non avevamo la giusta carica agonistica, oggi abbiamo avuto un atteggiamento giusto con un'ottima Francia che ci ha messo in grande difficoltà, una squadra che aveva perso ieri all'ultimo secondo col Brasile, però a meno abbiamo salvato l'onore, per non arrivare ultimi non era mai successo nella storia del bici soccer, quindi siamo stati bravi ad arrivare terzi. È stata una partita dura anche, molto maschia. Molto maschia, beh sai la Francia era molto più giovane di noi, sentivo prima a fine partita parlavo con qualche ragazzo, insomma un paio di giocatori, anni 94, anni 95, insomma molto giovani, quindi ci è voluta grande esperienza, è stata una partita maschia, bella, combattuta, però alla fine abbiamo vinto, quindi siamo molto felici di ciò. Grazie.